ciao a tutti e bentornati sul mio canale io sono john red e prima di iniziare il video vi invito se vi va di mettere like al video e iscrivervi al canale per avere altri aggiornamenti iniziamo non si hanno più notizie della ventenne kimberley bonvissuto che da lunedì 20 novembre risulta essere scomparsa inutili finora i ripetuti appelli della madre e del papà che con grande apprensione hanno cercato di avere notizia della figlia ma ora gli inquirenti hanno il brutto presentimento di ritrovarsi nella stessa situazione del caso di giulia cecchettin la 22enne scomparsa in veneto insieme all'ex fidanzato filippo turetta e poi trovata cadavere sette giorni dopo lunedì sera secondo quanto raccontato da una cugina di kimberley quest'ultima avrebbe dovuto incontrare un ragazzo al momento di kimberley non c'è nessuna traccia la mappatura dei suoi movimenti attraverso le celle agganciate dal cellulare ha si identificato un'area di spostamento ma comunque parziale e in questa geografia comunque la ventenne non è comparsa per il momento concluso questo piccolo video news un grosso abbraccio da georette un grosso abbraccio da georette